ben ritrovati cari telespettatori questa sera abbiamo deciso di parlare di sanità che cosa ne pensate della sanità in Italia filo diretto chiocciolacanalitalia.it ovviamente la possibilità anche di interagire sulle nostre pagine grazie Paolo in regia filo diretto canale filo diretto canale Italia e poi anche la mia pagina grazie Paolo Natali canale Italia vediamo questo servizio come funziona la sanità nel nostro paese sentiamo funziona la sanità in Italia quante volte ci siamo trovati davanti al dover rispondere a questa domanda certo ognuno risponde in base alle proprie esperienze ma analizzando dei campioni statistici si scopre che alcuni dati oggettivi possono essere dedotti il primo neanche a dirlo è un dato geografico l'Italia è letteralmente spaccata tra nord e sud se nelle regioni settentrionali particolare nord est valle d'aos dei cittadini si mostrano nel complesso abbastanza soddisfatti del servizio sanitario pubblico la situazione si rivalta al sud e nelle isole nel campione analizzato dagli istituti di statistica i picchi di soddisfazione si hanno in valle d'aosta con il 75 per cento e trentino 72 per cento numeri ben lontani dal 42 per cento della calabria ma cosa influenza questi dati anzitutto i servizi disponibili per esempio le visite specialistiche o esami che offre la propria asla c'è poi il tempo d' attesa prima delle visite o dell'esame in valle d'aosta il 35 per cento dei cittadini accede alla visita specialistica ospedaliera entro una settimana mentre solo all'otto per cento deve aspettare due o più mesi nel lazio solo il 14 per cento dei cittadini accede alla visita in una settimana ebbene il 39 deve sottoporsi alla lunga attesa di due o più mesi c'è dunque da stupirsi se il 60 per cento dei cittadini si rivolge a studi ambulatori privati altro capitolo è il rapporto costo qualità del servizio bisogna pur sempre ricordare come i costi da regione in regione siano diversi ad esempio il costo medio per ricovero che sul territorio nazionale pari a 3.450 euro riscontra picchi di 5.083 nel lazio e valori ben inferiore ai 3.000 euro in lombardia ed emilia ragione che spinge molte persone alla cosiddetta migrazione regionale dei servizi ovvero sostenere cure particolarmente durature nel tempo in zone d'italia differenti rispetto al luogo d'origine altra migrazione questa volta extra nazionale è quella del cosiddetto turismo dentale alla luce di alti costi di cure odontoiatriche in italia sono molte le società oltre confine che organizzano viaggi di più giorni con annessi esami e visite a costi paradossalmente più bassi rispetto ad una visita specialistica in italia occorre comunque sottolineare come diverse inchieste giornalistiche e non solo hanno dimostrato come a fronte di un costo molto inferiore si nasconda anche una bassissima qualità del servizio che in diversi casi ha portato pesanti ripercussioni per il paziente certo anche in questo caso non è opportuno generalizzare ma è certo che davanti ad un costo decisamente inferiore occorrerebbe porsi qualche domanda in più torniamo dopo riprendo il tema della prevenzione in chiusura di trasmissione però io volevo un attimo tornare al motivo per i quali molti cittadini italiani tendono ad andare all'estero e poi ritornano e gravano sul sistema sanitario nazionale cioè sulle tasse che noi paghiamo e questa cosa a me fa un po' arrabbiare no abbiamo visto che per diversi motivi ricorrono all'estero il primo è sicuramente un costo inferiore no costo inferiore però che cosa vuol dire certo ti danno un bel albergo ti vengono a prendere in macchina è tutto un percorso no dottor tarlini interessante sembra più un viaggio che è una cura nella sua specializzazione poi quello che si denota è che ci sono dei problemi immessi che si ripercuotono poi sulla salute perché la chirurgia estetica è correlata cioè non è che basta andare lì cioè poi ci sono delle gravi conseguenze sì assolutamente anzitutto bisogna dire a chi è profano di queste cose che il costo di una prestazione contiene tantissime voci la professionalità del del medico contiene la struttura i prodotti che si utilizzano durante le cure quindi sia dentali che di chirurgia estetica quindi diciamo che in questo pacchetto che si offre al paziente se c'è una falla in una delle voci che ho menzionato l'intero risultato può andare a decadere quindi poi il paziente torna in italia e si trova ad affrontare dei problemi oltretutto un intervento ad esempio di tipo estetico quindi diciamo considerato superfluo non necessario per la salute ma che è molto importante gestire in maniera forse ancora più accurata un intervento estetico è fatto di più fasi quindi sia il pre che il durante che il dopo sono fondamentali in questo tipo di interventi dunque se noi abbiamo a disposizione solo una toccata e fuga in un paese in cui magari noi arriviamo facciamo l'intervento e nell'arco di quattro cinque giorni si esaurisce il tutto poi abbiamo il post intervento da gestirci a casa con nessun tipo di assistenza e quindi poi cosa succede si hanno due opzioni o ci si riversa sul sistema sanitario quindi si arriva in un pronto soccorso o una visita per cercare di riparare eventuali problemi perché poi non sempre va male però insomma può succedere oppure uno ha accesso alle strutture private quindi con costi superiori alla fine il bilancio è quello di aver speso di più. Quanto influisce in questo internet perché secondo me è una valenza non da poco perché tu vai clicchi e ti viene proposte io ho visto dei pacchetti assurdi che mi sembra più il viaggio con l'amica che andare a fare un qualcosa perché poi internet secondo me è esposto e devi all'attenzione perché mettono come i bambini al supermercato boom prezzo camera trasporto ma stiamo parlando di interventi diciamo che un problema nel nostro settore è questo che essendo interventi che si fanno per il proprio benessere o per la propria estetica si possono aggiungere come corollario una serie di cose che rendono appetibile questo tipo di prodotto quindi di fatto poi diventa un'iniziativa di marketing più che di medicina questo è un grosso problema perché poi nel complesso di ciò che noi andiamo a fare se il marketing e se l'appetibilità supera quella che è la reale professionalità e la reale capacità di chi va a esercitare poi alla fine si vende tra virgolette fumo quindi perché c'è questo problema probabilmente in problematiche oncologiche o ginecologiche come quelle di competenza dei miei colleghi si ha un reale bisogno quindi il paziente è molto focalizzato su quello che è la sua salute in questo mondo diciamo che tutte queste addobbi che si possono fare all'intervento possono effettivamente suscitare l'attenzione e quindi l'appetibilità nel nostro servizio il bravo davide sottolinea una cosa l'utilizzo dei prodotti sembra una banalità ma fa la differenza perché quando vediamo ad esempio non posso citarlo ci sono queste scontistiche no ma io dico ora come fa andare nella scontistica sulla sanità cioè ma anche la visita ginecologica cioè non so se la visita oncologica spero di no almeno quella no penso che lei mascheroni forse si sa però vedono botox cioè è una cosa assurda cioè cos'è il mercato facciamo l'offerta ma lì il prodotto si compra cioè che prodotto stanno comprando se vendono un trattamento al costo di un decimo di una fiala dottor tartalini ma c'è questo fenomeno del super discount che grazie a dio sta un po' tramontando perché poi la gente rimane scottata quindi di fatto prova e poi capisce che non c'è nessun razionale dietro però si vedono offerte anche nel mio campo della medicina estetica in cui l'offerta è sotto il costo del prodotto e che cosa stanno iniettando non lo so bisogna chiederlo a chi ne fa certo però poi ne risente no tutto quanto no l'organismo cioè se noi mettiamo un qualcosa cioè non lo so perché come col cibo che noi siamo quello che mangiamo lo ripeto sempre no se noi prendiamo determinati prodotti ancora di più vale nel settore dottor preliasco le faccio vedere una bella tabella che è sicuramente contento ogni tanto mi affezione alle slide lo sa vediamo paolo curarsi all'estero puntini puntini mania all'ospedale di banco ogni anno vengono curati è vero 400 mila pazienti stranieri di 150 nazionalità diverse nel 2010 il turismo sanitario ha creato un giro da pari di 780 milioni di persone pari a 40 miliardi di dollari nel 2012 sono stati 184 mila gli italiani che hanno scelto di curarsi all'estero mentre nel 2013 hanno toccato quota 200 mila in tunisia un intervento di mastoplastica additiva al seno in un pacchetto vacanze che comprende vai qua inizia no l'agenzia viaggi volo due notti clinica e tre in hotel a cinque stelle costa meno di tremila euro cartellini cinque tremila euro ti do l'hotel cinque stelle il viaggio tutto quanto e varrebbe la pena anche solo fare la vacanza senza farla mastoplastica pregliasco evidenzia quello che diventa un consumismo della salute rispetto a quelli che sono gli obiettivi che si devono raggiungere che spesso li si possono raggiungere con attività di prevenzione con attenzione con minori costi ma ovviamente poi si arriva ai limiti e sicuramente internet lo dicevamo è elemento veramente negativo per tutto quelle che sono le aspettative del cittadino rispetto a una sanità e al fatto che peraltro ci sono costi ci sono necessità di competenze che stanno dietro a diverse cose quindi è un problema direi di attenzione e di aspettative che va in qualche modo affrontato molto ma non posso venire a fare volontariato da voi invece che andare a cercare in internet cose no assolutamente questa è la cittadinanza attiva il volontariato l'attività per la propria comunità credo sia un elemento fondamentale da rilanciare ci sono molti italiani perché ci sono 5 milioni di italiani che fanno volontariato in ambiti molto diversi e 300 mila nel campo della sanità e sicuramente lì si vede dal vivo perché è una delle esperienze che fa il volontario che sale sull'ambulanza che fa assistenza agli anziani vede davvero quali sono i bisogni e le sofferenze di tipo fisico ma anche psicologico di una gran cosa per le ascole dico una cosa perché racconti fatti mia in televisione vabbè è vero lo dire faccia inutile per un programma che ho seguito un po di anni fa io se sono state insomma sulle autumbulanze di notte per un po di volte no ed è stata un'esperienza incredibile perché poi scopri che ad esempio non vengono dati i riposi lavorativi cioè delle cose assurde tutta gente che va gratuitamente sono rimasta veramente tra le situazioni alcuni maleducati che chiamano visto veramente chiamare un'autumbulanza per una cosa che io da giornalista l'avrei lasciato lì cioè non l'avrei caricato le dico la verità preliasco domani vai dal medico di base ti fai che non si chiama più medico di base ma fa niente fai la tua coda e chiamavano la tubulanza casomai c'era un infartato che ne aveva veramente bisogno non è anche lì vede preliasco che un problema di testa che si rifà poi a 360 gradi sulla sanità assolutamente l'uso del pronto soccorso e l'attività impropria che che subisce come pesantezza in tutte le strutture ospedaliere anche quella che dirigo al galeazzi è veramente micidiale rispetto invece a una serie di bisogni sull'emergenza ma come dicevamo c'è da cambiare un po la struttura dei servizi e quindi rendere disponibili al cittadino anche ambulatori ci sono progetti ma si scontrano con difficoltà e operatività però davvero è sempre l'aspettativa che oggi è fine eccessiva rispetto alla sostenibilità del sistema ma non potete multarli ma ci sono adesso dei ticket perché tanto è poco il ticket cioè uno arriva che non ha niente perché non vuole andare a fare la coda e poi mi paghi prendi le autombulanze non ti servite la faccio pagare come l'elix soccorso vuol vedere preliasco che le autombulanze per le cose serie si trovano nel nostro paese in effetti non è facile però dei tentativi sui codici bianchi ci sono di però è poco diamo una bella salassata canino vede che belle idee che non le piacciono ma sì io vedo anche da me d'accordo con me no canino certo no ma molte gravi specialmente stranieri se no non le invito più no scherzo bypassano il problema del taxi della macchina le chiamo l'ambulanza per cui anche per andare a fare un tracciato in ospedale mi arrivano con 118 ma lei come fa quando se li trova lì al pronto soccorso ma qualche volta scappa un po' il rimprovero ma fino a un certo punto cosa vuoi vedi anche se le situazioni strane cioè non è non è semplice ci vorrebbe un'educazione generale del non uso così anzi del non abuso della struttura sanitaria che c'è funzionale ma chiaro che se poi una struttura fatta per cento lo usano in mille per qualsiasi cosa magari chi veramente ha bisogno dicevi bene l'infartuato non trova l'ambulanza ma io vedo anche sbarellare mi correggano io ho visto code assurde perché c'è gente davanti che non ne ha bisogno no e quindi ma gli facevo un bel po' di notti e cioè immaginatevi anche non è che vai solo una volta ne fai 15 20 ti rendi conto e io mi immaginavo ma se io fossi su quell'autombulanza è veramente sto male mi trovo davanti una che che ha chiamato perché c'ha un mal di testa e casomai ha litigato col marito no perché poi chiamano l'ambulanza anche quando succedono i fatti personali e tu ne hai veramente bisogno e poi gli arriva canino al pronto soccorso lei cosa fa la deve curare e cosa faccio la mica la posso mandare via la devo curare a limite gli dai un codice bianco pagherà quei 20 25 euro bisogna pagare 25 mila euro così poi non ci torna più e li diamo agli anziani facciamo un bel fondo li diamo agli anziani e siamo contenti mascherone lei che cosa ne pensa è anche un problema purtroppo dobbiamo dirlo anche medico legale c'è nel senso che a fronte di quello che ti arriva con il mal di testa quel ti posso capitare mille episodi di una volta che invece il mal di testa capita che abbia in quel momento lì qualcosa di veramente più serio a quel punto tu lo trascuri e dici ma no adesso il mal di testa lo rimandi a casa viene fuori un caso nazionale per cui a volte non è facile anche dal punto di vista anche medico che lavora anche in pronto soccorso dover scegliere o dover discriminare in maniera così ad occhio quelli che sono i casi realmente urgenti rispetto ad altri perché persone è capitato anche a me una volta in brutto soccorso che uno che sembrava apparente con mal di testa che sembrava apparentemente ubriaco e poi per fortuna mi è capitato l'ho tenuto nella stanteria e la se il qualche ora dopo perché questo ha avuto ha avuto un problema realmente importante di di però ci sono alcuni casi che veramente sono assurdi canina me ne racconti qualcuno dei suoi tanto non diciamo il nome e cognome quindi ma no da noi spesso sono le gestanti che usano a proposito ci vengono non dico per niente ma qua perché mettiti nei panni della donna gravida e un'ansia oramai prima la gravidanza è una bella cosa piacere adesso vi guardano su internet e arrivano i capelli dritti per qualsiasi cosa per cui è chiaro che loro utilizzano molto pronto soccorso vengono spesso in ambulanza quando non ce n'è bisogno è proprio una categoria un pochino a rischio dell'utilizzo eccessivo però non hanno le gravi possibilità di accedere non hanno un pronto soccorso ma infatti noi riguarda abbiamo fatto un sistema stupendo loro entrano direttamente stato il pronto soccorso c'è proprio un percorso rosa nell'ospedale proprio per la donna che arriva proprio sotto anche per i mariti che le accompagnano però esplodere le visite noi passiamo le notti a fare ambulatorio perché tutti hanno il percorso rosa arrivano e si vogliono far visitare ma anche se non è nemmeno negativo per l'amor di dio però in effetti questo porta un utilizzo talvolta il proprio del servizio c'è chiaro che più vai verso l'utente più l'utente lo utilizza poi non dobbiamo lamentarci che ci sono troppo utilizzo perché siamo andati a più che si poteva verso l'utente certo dottor tartellini che cosa ne pensa ma sì diciamo che bisognerebbe da una parte ma è concordo con il collega nel senso che tanto più si alza la qualità del servizio tanto più il cliente ne fruisce quindi è direi normale bisognerebbe anche fare una sorta di educazione del paziente ma è utopica questa cosa no perché poi ognuno ha un suo approccio alla propria salute che è personale quindi ci sono gli allarmisti ma fin da piccoli a scuola in prima elementare no invece educazione civica mettiamo anche educazione sanitaria educazione sanitaria fa i corsi abbiamo trovato si sta organizzando perché l'ambito della buona scuola del decreto buona scuola è previsto proprio un ritorno all'educazione alla salute a norme di pronto soccorso quindi a un come dire coinvolgimento sin da piccoli del dei bimbi rispetto alla responsabilità della salute una cosa che tanto lo fanno anche le famiglie a casa perché tu a scuola puoi fare ma poi quando a casa vedi degli esempi che non rispecchiano no d'artellini cioè sicuramente poi l'ambiente familiare è quello che più ti forma nella tua nella tua crescita c'è da dire una cosa che comunque non bisogna mai proprio per un discorso anche medico legale purtroppo in qualsiasi mestiere sanitario sottovalutare perché da un anche da un sintomo banale può nascere un problema molto grosso quindi qui si pone il problema proprio di come gestirla meno male che non faccio il medico vediamo questo nostro servizio paolo che parliamo dell'importanza della prevenzione perché vorrei chiudere proprio sulla prevenzione no grazie paolo possiamo vedere grazie è noto a tutti il detto prevenire meglio che curare e in tutto il mondo medico scientifico è riconosciuta l'importanza della prevenzione per garantire una buona salute ed una migliore qualità della vita del resto adottare uno stile di vita corretto e attuare la diagnosi precoce possono salvare la vita perché scoprire precocemente una patologia significa infatti nella maggior parte dei casi guarirla uno dei campi maggiormente coinvolti in questo senso è il trattamento del cancro e la sua prevenzione ad esempio la scoperta di un tumore al primo secondo stadio può portare alla guarigione con il solo intervento chirurgico mentre al terzo stadio si renderanno necessarie anche chemioterapia e radioterapia con gravi disagi per i pazienti elevati costi ospedalieri e senza la garanzia di una guarigione completa le tecnologie avanzate in medicina e chirurgia permettono di curare anche i tumori al terzo e quarto stato ma non sarebbe meglio per i pazienti scoprirle al primo al secondo ovviamente la prevenzione non riguarda soltanto i tumori ma anche tutte le altre malattie che possono essere evitate con la cosiddetta prevenzione primaria o guarite completamente grazie ad una diagnosi precoce insomma una visita medica e analisi mirate permettono di diagnosticare precocemente più del 90 per cento delle patologie ancora non manifeste quelle stesse patologie un anno più tardi potrebbero diventare croniche e nel peggiore dei casi letali dottor mascherone lei la parola no perché nel suo settore no la prevenzione veramente fatto la differenza si si è noto che la prevenzione è la prima arma ed è l'arma migliore per sconfiggere questo genere di malattie io mi occupo in particolare melanoma è l'unico tumore che noi sappiamo essere visibile per cui abbiamo tutti noi insomma il dovere di cercare di individuare questi geni di malattie prima che queste vadano a svilupparsi in maniera molto in profondità in maniera molto grave per cui nel momento in cui le malattie poi soprattutto i melanomi in questi casi qua diventano metastatici la possibilità di essere operati diventa molto di essere curati diventa molto molto lontana insomma anche se ultimamente con le nuove terapie con le monoterapie almeno due casi su dieci di pazienti con malattie metastatica riescono ad avere una a mantenere la propria malattia cronica anche per più di dieci anni la prevenzione nei melanomi è assoluta cioè per definizione è la possibilità migliore che sia per curare la più del 90 per cento di questo geni di malattie certo bisogna saperli trovare bisogna saperli individuare bisogna saperli riconoscere perché comunque informazione delle famose regole certo prima delle vacanze dopo c'è stato comunque secondo me in questo l'informazione devo dire per una volta ha iniziato a far capire a entrare nella testa degli italiani è altrettanto vero che in questi ultimi dieci anni la frequenza di melanomi era doppiata mentre nel 2006 era circa 6 mila casi all'anno adesso si è nel 2016 sono previsti più di 12 mila casi l'età no no allora l'età è più o meno uniforme tra uomini e donne solo che il livello medio di età è drasticamente diminuito mentre dieci anni fa la media era dei melanomi era dai 50 e 60 anni adesso si è abbassata molto che la media dell'età del riconoscimento di melanoma è 40 anni per cui è il terzo tumore come frequenza entro i 50 anni sia nei maschi che nelle femmine ed è la prima causa di morte nei pazienti dai 20 e 30 anni per cui cioè è sicuramente una malattia che comunque si può curare che con la prevenzione si deve per forza assolutamente individuare però è una malattia che soprattutto per quanto riguarda i giovani è una malattia che va presa in maniera estremamente seria estremamente seria perché comunque di melanoma si muore ancora adesso dieci anni fa ne morivano mediamente un migliaio all'anno adesso ne morivano è raddoppiata la frequenza di melanomi ma è anche raddoppiata il numero di morti per cui non lo faccio tutto Canino in un minuto a testa che devo chiudere sul tema della prevenzione ma la ginecologia è il campo della prevenzione anche perché in ginecologia è stato inventato quel test di screening ottimale fra tutti gli screening che nella storia medicina è stato inventato che è il pap test il test ha salvato realmente milioni e milioni di donne è un test facile semplice ripetitivo costa poco è l'ideale insomma ecco e quindi da questo punto di vista poi 50 per cento di malattie oncologiche nella donna riguarda un po la sfera materno infantile siamo messi molto bene da questo punto di vista per quanto riguarda la prevenzione della donna anche pochino più fortunata dell'uomo è più semplice la prevenzione della donna rispetto rispetto all'uomo certo perché del resto parlare di prevenzione vuol dire proprio parlare di salute ma non solo vuol dire parlare di sanità vuol dire parlare di futuro e in questo contesto è importante fare rete no indipendentemente dalle vostre no specializzazioni parlare di prevenzione dovrebbe diventare un appuntamento anche per chi fa il mio lavoro non se ne parla sono indeterminati periodo bisogna sempre parlarne non dico ogni settimana ma almeno ogni 15 giorni dottor tartalini che cosa ne pensa in merito proprio al tema della prevenzione allora nel mio nel mio mondo la prevenzione è un concetto un po invece diverso nel senso che secondo me bisognerebbe prevenire interventi inutili nel mio nel mio campo perché molto spesso le donne che sono la maggioranza dei fruitori degli interventi chirurgia estetica si riversano poi sulla chirurgia estetica sulla medicina estetica come sommatizzazione di altri problemi quindi in verità il professionista serio dovrebbe indagare seriamente su quali siano le ragioni che portano una donna a intervenire sulla propria estetica perché vediamo certe cose che veramente il problema è chi ha operato c'è quella donna doveva andare secondo me da un buono psichiatra invece che da un chirurgo no eppure quindi la la prevenzione in questo settore è proprio un prevenire interventi inutili o dannosi certo pregliasco la prevenzione nell'ambito della mia attività è fondamentale c'è una prevenzione primaria che è quella riguardante la diffusione di stili di vita adeguati perché l'alimentazione l'attività fisica tutta una serie quindi di aspetti che oggi sono determinanti per garantire una qualità di vita nel futuro e poi l'abbiamo già detto la prevenzione della vaccinazione fondamentale da rilanciare ma anche come dicevano i colleghi la prevenzione secondaria gli screening per una diagnosi precoce un elemento che fa guadagnare salute e soprattutto fa risparmiare molto denaro rispetto all'attività terapeutica certo perché lo ricordiamo no è importante parlare di prevenzione è importante parlare di prevenzione per il nostro futuro no spesso alcune cose vengono viste talmente distanti no è anche invitato a cucinare pregliasco è venuto nella trasmissione cioè perché pregliasco anche quando si parla di alimentazione è com'è e lì l'alimentazione nella prevenzione è fondamentale e spesso non se ne parla no cioè spesso viene vista l'alimentazione come una cosa a parte ma noi siamo quello che mangiamo tartaglini no assolutamente ma oggi la stragrande maggioranza delle malattie croniche degenerative sono indotte dagli stili di vita pregliasco l'elemento appunto della scommessa del futuro con un allungamento del tempo di vita e che è la scommessa appunto del futuro è quello di riuscire a gestire le patologie croniche e soprattutto a cercare già da età più giovane di ridurre quei fattori di rischio che peggiorano poi l'assistenza successiva mascheroni la prevenzione anche dal punto di vista alimentare effettivamente vale la pena di essere considerata per quanto riguarda i melanoma in realtà ci sono altre forme di prevenzione che sono le scottature le spazio solari tanti altri generi tanti altri generi prima dell'esposizione 30 ogni 30 minuti ogni 50 minuti 50 e inviterò prima dell'estate che faceva un bello schema no quello sarebbe ideale anche perché a volte anche il sole stesso viene demonizzato per cui occorre una corretta informazione che tante volte fa più comodo demonizzarlo e parlare troppo nei generi e non dare delle corrette informazioni in genere Canino Prevenzione è una fondamentale nelle scuole tu avevi citato Ilaia non sei ogni tanto da una mano E Rotary e tutte le altre associazioni E ma da una mano c'è un bellissimo progetto di Ilaia il progetto Martina e andiamo nelle scuole a parlare anche di melanoma Bravo Di tumore mammario alle ultime a quelle scuole superiori chiaramente E' lì che bisogna fare la reale prevenzione Devo salutare Grazie dottor Antonio Canino Grazie mille Grazie Grazie Niguarda ginecologo Grazie dottor Luigi Mascheroni Chilurgo oncologo Humanitas San Pio X Grazie Buonasera Grazie a voi Ringrazio il saluto di dottor Fabrizio Pregliasco Presidente nazionale Ampas e virologo Grazie Pregliasco Buongiorno Ringrazio il dottor Dario Tartaglini Chilurgo estetico Policlinico di Monza Betramedical Grazie Buon sabato sera Un buon sabato sera a tutti voi Una buona serata Grazie Grazie